buongiorno buonasera dipende da quando mi guardate abbiamo detto oggi un solo video ma gli argomenti non mancano sono tanti sono diversi variegati vanno dal calcio al caso scommesse eccetera eccetera partiamo dalle questioni spicciole domani giorno molto importante parlo tecnicamente per la juventus perché sia danilo sia chiesa verranno sottoposti ai controlli del j medical e lì si avrà un quadro più completo della situazione oddio il quadro di chiesa è già completo nel senso che lui non ha nessuna lesione non ho confermato anche gli esami svolti in nazionale ma continua a avere questo fastidio barra dolore alla coscia e quindi saranno necessarie ulteriori indagini che apparentemente allungano il periodo della sua assenza o potrebbero allungare il periodo della sua assenza anche a mila juve di domenica prossima è ovvio che se il giocatore che domani non si allenerà perché verrà sottoposto ovviamente ai controlli non riuscirà ad allenarsi da martedì in avanti le speranze di vederlo in campo e disponibile o quantomeno disponibile contro il milan sono piuttosto ridotte anche normale perché siamo saremo alla seconda praticamente settimana senza allenamenti veri e propri in cui il giocatore è abituato a forzare e a dare il cento per cento anche sul terreno della continessa così come non è stato in grado di darlo sul terreno di di commerciano per quanto riguarda danilo c'è il sospetto di 20 giorni di stop non so da dove derivi non ha ancora fatto gli esami non si riesce bene a capire anche qua si tratta di un presumibile problema alla coscia al flessore la coscia sinistra però gli accertamenti non ci sono ancora stati e quindi bisogna attendere chiaramente il responso anche in questo caso però mi sento di dire a questo punto che sarà molto difficile se non impossibile che il giocatore sia disponibile per la partita con per usso neri e man mano che ci avviciniamo lì insomma sarà anche curioso scoprire come la juve si avvicinerà a questa partita e soprattutto con quale formazione scenderà in campo il 22 ottobre stasera perché pensate un po fino a due settimane fa dieci giorni fa si diceva che era il milan quello che aveva i problemi per le squalifiche di megnano e teo hernandez e invece la juve ci ha giocato il carico sui problemi insomma chiesa danilo fagioli perché presumibilmente arriverà la squalifica per fagioli che è pronto al patteggiamento che eviterà i cinque anni di squalifica perché non ha scommesso questo è quanto trapela non ha scommesso su partita della juventus perché questa sarebbe stata un aggravante cioè lì si andava oltre i tre quindi si parte una base di tre col patteggiamento si punta a ridurre la pena come minimo a alla metà quindi praticamente ad un anno e mezzo questa la situazione mi chiedete perché si parla solo di juve lasciamo stare il fatto che la juve ormai già penalizzata condannata che in questo caso serie bici radiata vabbè insomma ormai siamo abituati a parlare di queste cose no di una squadra che ha vinto 38 scudetti l'ha detto ibra al festival dello sport non lo dico io l'ha detto ibra al festival dello sport l'aveva già detto in passato l'ha ribadito anche quest'anno quindi va bene ok quindi noi siamo qua per registrare i commenti sono sicurissimo che qualunque giocatore che abbia vinto quei due scudetti che sono stati tolti dica che sono stati vinti sul campo come è vero sono stati vinti sul campo poi dopo la parte giudiziaria eccetera di giustizia sportiva è tutta un'altra parte ma chi ha lottato faticato sudato sul campo giustamente rivendica di aver vinto quegli scudetti sul campo chiusa la parentesi stavo appunto dicendo che fagioli patteggerà perché si parla solamente di juventus perché perché tonali per esempio e zaniolo devono ancora essere ascoltati dai pm e naturalmente non può attrapelare ancora nulla sulla situazione di donali zaniolo e compagnia perché dico compagnia perché la indiscrezione è stata pubblicata da repubblica nei pm ci sarebbero per davanti pm ci sarebbero una trentina di nomi trentina di nomi tra calciatori procuratori e dirigenti addirittura dirigenti di squadra di serie a la qualcosa naturalmente fa capire quanto si sia solo all'inizio di questa situazione quanto ci sia ancora tanto da scoprire di quello che potrebbe succedere da qui in avanti e che potrebbe appunto coinvolgere altre altri giocatori e di richiamo di rimando naturalmente anche le loro società di appartenenza ma perché giocano in quelle società cioè non perché possono essere incriminate queste società sia chiaro assolutamente ciò sto dicendo siccome il termine juventus è sempre quello sbattuto in prima pagina e sulle front page ai siti eccetera eccetera bene più avanti ad ogni calciatore se giocano in altre squadre dovrà essere abbinato il nome delle squadre in cui giocano o giocavano quando scommettevano è evidente che leggeremo anche altri nomi e quindi ci saranno approfondimenti anche su questi su queste singole situazioni dalla cià di fagioli emerge che bonucci sapeva bene se bonucci sapeva rischiava una condanna di sei mesi per non aver denunciato giuntoli presente al festival dello sport ha ribadito e non credo che si esponga così per dire una balla ha ribadito che appena saputo di fagioli è stata informata la procura federale quindi la juventus ha ottemperato come società al suo obbligo di informare le autorità in caso di giocatore e tesserato comunque che scommetteva ok e poi ha speso delle parole su fagioli che sono più o meno quello che ci siamo detti ieri nel video cioè è giusto punirlo anche la juve lo punirà anche la juve lo punirà non so sotto quale forma probabilmente intervenendo sullo stipendio ecco ovviamente cioè mettendo al minimo il stipendio probabilmente per tutta la durata della 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 squalifica anche perché per pagare a stipendio pieno un giocatore che poi non può giocare ok e qui non si tratta di infortunio che può subentrare anche un'assicurazione eccetera no qui è una questione ti mettono al minimo di stipendio ma bisogna anche stargli vicino per rieducarlo e fare in modo che da questa vicenda questo lo aggiungiamo noi perché siamo sognatori in fondo perché sempre bello sognare non costa niente che da questa vicenda parta un una situazione 2.0 3.0 4.0 5.0 sono tanti sono i numeri sono infiniti punti zero ecco perché sognare è bello ma se poi non si vedono gli effetti del sogno vabbè però siccome non costa niente si sogna ancora quindi scegliete voi il numero punto zero di ripartenza del calcio italiano non solo del calcio italiano perché in questo caso si tratterebbe della vita del tessuto sociale della moralità di tante componenti di questa società decadentista in piena decadenza all'inizio dell'apocalisse lo continuerò a ribadire ok perché siamo in questo periodo quindi vediamo se sarà appunto un nuovo inizio voglio sperare perché la speranza ci deve essere sempre e credere delle cose aiuta sicuramente a portare avanti le battaglie perché se non credi nelle battaglie se non credi nei cambiamenti e allora ci si spara un colpo in testa si va da via cioè per modo di dire si intende cioè si accetti tutto così com'è e va bene e si subiscano anche le conseguenze direttamente o indirettamente quindi crediamo che possano cambiare sì e allora facciamolo con comportamenti noi dal di fuori non è che possiamo fare molto non siamo psicologi possiamo dare delle delle parole di anche di rabbia all'inizio ma che poi si trasformi in sostegno conforto cioè perché sempre che sia accertata la ludopatia questi ragazzi possano poi riprendere la loro vita normale ma così come deve accadere per tutte le persone c'è non solo calciatori per tutte le persone affette da per esempio da questo tipo di patologia per tutte e qui adesso noi stiamo parlando di calciatori ma ci sono migliaia e migliaia centinaia di migliaia siamo milioni di persone nel mondo affette da ludopatia noi ci occupiamo dell'italia ci occupiamo del nostro orticello va bene e sarebbe bello che uno stato si adoperasse non solo per far giocare la gente ma che desse seguito al fatto di dire attenzione perché giocare fa male non semplicemente ti faccia tutto sul culetto ma predisponesse degli aiuti concreti che sono persone che in quel momento lì si dimenticano della loro funzione del ruolo qualunque lavoro facciano e qualunque rapporto tengano perché in primis c'è devo andare a giocare le macchinette devo andare a giocare a blackjack devo andare al casino devo andare a scommettere devo fare la schedina devo giocare super enalotto quante volte vi capita di entrare in un bar e vedere soprattutto persone di una certa età che cominciano a comprare le le schedine del super enalotto e tatatata cominciano a grattare grattare ho vinto 10 euro dammi 5 schedine perché quelle da due ho 10 da una vede vedi cioè continuano a giocare su quello che hanno vinto questa è ludopatia cioè la persona saggia vince 10 euro 30 euro 50 euro 100 euro cosa dovevo pagare la multa il gas li uso per questo no comprano altre schedine quindi non ci sono solo i calciatori c'è tanta gente che si riduce male così tanta gente poi mentre il proibizionismo mi sto dilungando il proibizionismo ha portato purtroppo ad altre conseguenze è vero è per carità è vero il proibizionismo in america sull'alcol aveva portato a allo sviluppo del mercato clandestino siamo perfettamente d'accordo è però uno stato il dovere di difendersi anche da queste situazioni da queste infiltrazioni lo so che sono belle parole sono belle parole per carità però ragazzi se si continua a parlare basta non si fa niente non si va da nessuna parte lo stato agli strumenti per combattere la malavita e ce li ha e non è che non li ha ce li ha qualunque ordinamento politico sia al comando di uno stato però ci deve essere la volontà quindi se entriamo in altri discorsi che magari affronteremo sul numero di forze dell'ordine a disposizione sul perché uno non si arruola più perché prende 1200 euro al mese perché un poliziotto un carabiniera prendono 1200 euro al mese e magari rischiano la vita tutti i giorni cioè perché con 1200 euro al mese nessun italiano può vivere con 1200 euro al mese nessun italiano a meno che non viva da solo in un modo locale di 25 metri e possa pagare solo due o trecento euro di affitto al mese non vive nessuno delle cifre però questo è un discorso molto più grande del nostro adesso noi cerchiamo di confinare il nostro discorso quindi c'è il dovere di aiutare tutti tutti e in questo caso ragazzi giovani poi è la seconda possibilità se sprechi anche quella ragazzo mio te la sei cercata tu te la sei voluta tu signori sono quasi a 13 minuti video anche perché ne abbiamo fatto uno solo vi prometto che non sarò mai più così lungo iscrivetevi al canale ci vediamo naturalmente domani dove si la dove si parlerà si parlerà di sicuramente ancora scommesse però mancheranno sei giorni a mila juve quindi cominciamo ad entrare un po e poi vediamo cosa succede al genere ciao 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 ciao